Distrutto Dark Khan Raiden ha distrutto Dark Khan e ce l'ha fatta E Superman è sparito Tutto è tornato alla normalità Questo è il finale della fazione MH di Mortal Kombat contro DC Universe Mi sa che incontrano Darkseid Mi sa che Darkseid non può più sparare il laser dai suoi occhi Ora guardate cosa fa Raiden appena va da Darkseid Se sei qualcosa di simile a Shao Kahn non troverai rifugio qui Il tuo destino sarà deciso dagli deri anziani Mi sa che Darkseid viene incatenato Come era successo con Quan Chi Bene io vi saluto Iscrivetevi al canale Mettete un mi piace Parola di Gabriel Osta Grazie per avermi seguito Darkseid rimarrà legato per sempre E non riuscirà mai più a liberarsi